Manca davvero poco per questa nuova edizione di Sanremo 2023 Amadeus è pronto per tornare sul palco dell'Ariston, e regalare assieme ai suoi ospiti grandi emozioni, e soprattutto grande divertimento Dal punto di vista degli ospiti internazionali l'unica certezza è che a cantare all'Ariston nella serata di mercoledì 8 febbraio, ci saranno i Black Eyed Grazie a tutti 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 Grazie a tutti